Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo un'altra anticipazione per i prossimi europei. Questa è la seconda maglia del Portogallo, squadra di Procanto, in versione FAN. Grazie a tutti. Cosa ne pensate della maglia? Secondo me è molto bella, particolare con questo disegno, una maglia diciamo così semplice, comunque la maglia di Ronaldo, quindi ha sempre un discreto fascio. Qualità ottima, il costo, lo vedete qui sopra, molto basso se considerate che include anche le spese di spedizione. Se volete maggiori dettagli trovate tutti i riferimenti qua sotto nella descrizione del video. Andate a vedere perché insieme a questa maglia troverete tante offerte e in descrizione c'è anche una grandissima sorpresa. Ora vi lascio la parte finale, prima però iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto che dovete fare ma ci aiuta a mostrarvi maglie bella come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima!